Ugo Sierra, oggi Colpasano avete vinto mentre Ostuni ieri ha perso, quindi la capolista se ne va in questo caso? Sì, dovevamo confermare la sconfitta ieri di Ostuni, l'ha perso con l'altra squadra di Cirignola. Con fortuna abbiamo giocato bene, sappiamo che il campo è ostico qua, non è facile vincere, quindi dobbiamo prendere una partita con molta calza, con molta concentrazione, rispettando sempre il rivale perché l'anno scorso abbiamo perso molto bene qua, quindi dobbiamo fare bene bene tutta la partita per portare avanti questa striscia di vittoria. La difesa del Pasano l'ha marcata uomo tutta la partita, una parola sui nostri difensori? Ce la mettono tutta, veramente è così, ogni campo che vai ci sono dei begli ragazzi, belli pimpanti che corrono, 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 e fortuna, comunque rispondono ancora a fare qualcosa, quindi sono contento.